Chiusa la votazione. 325 favorevoli, uno contrario, la Camera approva. Sono così conclusi gli argomenti scritti all'ordine del giorno. Comunico che la giunta delle elezioni nella seduta del 29 giugno 2016 ha verificato non essere contestabile l'elezione del deputato Dino Secco, proclamato nella seduta del 27 aprile 2016 in sostituzione del deputato Giancarlo Galan, decaduto al mandato parlamentare per la lista numero 9, il Popolo della Libertà, nella settima circoscrizione Veneto 1. Concorrendo nell'eletto le qualità richieste dalla legge, la giunta ha deliberato di proporne la convalida. Do atto alla giunta di questa proposta e dichiaro convalidata la suddetta elezione. Avverto che all'ordine del giorno della seduta di domani sarà iscritto, dopo gli argomenti per i quali sono previste votazioni, l'esame del disegno di legge di ratifica della Convenzione tra Italia e Cile per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le illusioni fiscali. Il relativo contingentamento sarà pubblicato in calcio e il resoconto stenografico della seduta odierna. La collega Martelli Giovanna è iscritta per l'intervento di fine seduta. Prego. Grazie, signor Presidente. In questi giorni a Roma si sta vivendo un'emergenza umanitaria. Si tratta di centinaia di donne, bambini e uomini che transitano a Roma e non trovano accoglienza se non nei posti offerti dalla Croce Rossa e in via Cupa, per strada, assistiti e assistite dai volontari e dalle volontarie dell'ex centro di accoglienza Baoba. Quanto sta accadendo è una vergogna per la città di Roma. È inaccettabile lasciare donne, bambini e uomini... Grazie. Grazie.